Un increscioso episodio è stato denunciato ieri verso sera da una commerciante chioggiotta, Claudia Pagan, che assieme alla sua giovane commessa sarebbe stata pesantemente importunata da uno sconosciuto, alterato dall'alcol, sotto i portici di corso del popolo all'altezza di Calle Cesare Battisti. Quel che è peggio, scrive Claudia nei suoi network, è che nessuno dei passanti si sia sentito in dovere di intervenire e fermare lo sconsiderato, né di testimoniare alla polizia i fatti avvenuti sotto gli occhi di tutti. Alle ore 18.45 di ieri, all'esterno del negozio di bomboniere e articoli matrimoniali Blue Moon, Claudia e la giovane dipendente sarebbero state aggredite da un ubriaco con offese squallide, degenerate nella pressione fisica e violenta anche alle parti intime. Nessuno ha alzato una mano, anche solo per chiamare il 113, scrive indignata Claudia Pagan, che rincara la dose verso chi c'era e non ha mosso un dito. I testimoni oculari si devono vergognare, hanno il dovere di dire cosa hanno visto. Solo mia cognata e mio nipote, che stanzionavano nei pressi, oltre a un amico, hanno udito le mie urla e sono intervenuti, a loro volta offesi dall'ubriaco. La commessa e le parenti della Pagan sono state poi ricevute in commissariato di pubblica sicurezza, mentre la gestrice dell'esercizio ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dato lo stato di panico. La strada Romea continua a essere teatro di incidenti stradali, alcuni anche con vittime, oltre intasamenti e polemiche per l'ubicazione dei prossimi autovelox. Da tempo si discute di modifiche al suo tracciato, che possibilmente escludano dal traffico pesante le frazioni a sud e a nord del comune di Chiorgia. Oltre al raddoppio ipotizzato dal studio urbanistico Sinergo, l'ANAS valuta una variante a est che andrebbe a sventrare il Bosco Nordio, circostanza inammissibile per l'amministrazione comunale per i Chiorgiotti. Per parlare di Nuova Romea e anche dello sviluppo di una ferrovia verso il piove di sacco, martedì 18 settembre a mezzogiorno il comitato che invoca una legge regionale speciale per Chiorgia, presieduto dall'avvocato Giuseppe Boscolo Gioachina, incontrerà l'assessora regionale all'infrastruttura Elisa De Berti, nella sede veneziana di Palazzo Balbi. L'incontro è stato chiesto per dibattere l'idea di convocare una conferenza di servizi, istruttore ed uno studio di fattibilità nel rapporto costi-benefici delle varie ipotesi in campo in tema di collegamenti stradali e ferroviari. La delegazione che si arricchierà alla regione sarà quanto più rappresentativa del territorio, delle associazioni di categoria e dell'amministrazione comunale, afferma l'avvocato Gioachina. Nicola Boscolo Meneguolo, in arte bonime, è un 26enne DJ e produttore musicale Chiorgiotto, per qualche tempo trasferitosi a Berlino, la mecca europea della musica elettronica e dance. Là ha conosciuto il collega palestinese Oday Masri, in arte Oz, che l'ha invitato alla malla per quattro date sia in DJ set che live act e due grandi manifestazioni all'aperto nel mese di ottobre. Bonime sta per partire da sottomarina alla volta del tormentato paese medio orientale, dove anche oggi chi come Oz se vuole promuovere le proprie arti all'estero non può uscire liberamente e deve scavalcare un muro di otto metri, facendosi anche del male. Ospitato a Oz a Berlino durante il Fusion Festival, racconta Nicola a Chioggia Azzurra, è ne nata un'amicizia e una collaborazione, nel segno della stessa passione del trovarci entrambi a lavorare con la stessa agenzia di promoter viennesi. Nicola Boscolo cerca di sopprimere le tensioni pericolose nel paese attraverso una musica aggressiva, capace di unire nella passione ragazzi di terre così diverse, come si è visto nelle recenti boiler room. I legami tra la Palestina e la musica underground italiana sono comunque consolidati da una decina d'anni, quando i rapper locali Ramallah Underground vennero in tournée da queste parti e rilasciarono interviste ai media nazionali per raccontare cosa vuol dire vivere e fare musica giovane nei territori occupati. Inizia oggi il campionato di Serie D che vede coinvolta la Claudiense Chioggia Sottomarina, ancora ubicata nel girone C assieme alle due squadre polesane Delta Portotolle e Adriese. E proprio nello stadio Bettinazzi di Adria i lagunari faranno oggi visita dalle ore 15, a 15 giorni dal successo ai rigori che ha decretato il passaggio del turno in Coppa Italia. Grazie alle tre vittorie consecutive, l'ultima domenica scorsa a Campodarsego, la Claudiense appare come una delle squadre al momento più in forma, ordinata e solida nel mettere sul campo quanto richiesto dall'allenatore Gianluca Mattiazzi, ex di turno assieme al suo staff, al capitano Ballarin e ad altre due pedine fondamentali dei Granata, quali Arvia e Martino. Per contro l'Adriese, allenata da Michele Fiorindo, ha nei propri ranghi svariati ex di turno, dai Chiorgiotti Davide Bosco e Roberto, Michael Pagan, Nicola Bosco e Lobisto, fino ad Andrea del Carro, che lo scorso anno fu molto efficace nella salvezza del team. Senza contare il pericolo numero uno, ovvero naturalmente il numero dieci, Giacomo Marangon. Mattiazzi oggi non può disporre degli squalificati per l'Izzere pregnolato, se per il secondo scontato il ritorno al centro della difesa di Alberto Ballarin, ma c'è anche Davide Granziera, per sostituire il forte interno e il tecnico a due soluzioni, una testuale con Diuric e un'alternativa tattica con il 4-2-3-1. In entrambi i casi il centravanti Barone dovrebbe essere della partita e le attenzioni sono puntate sul 19enne Luca Bullo, talento allevato in casa e artefice con i suoi gol di due degli ultimi passaggi del turno. Carissimi amici, buongiorno a tutti e buona domenica da Netto Cazzurra. Dunque il tempo si è sistemato ovviamente da ieri, anche se vi devo dire che le precipitazioni che erano previste deboli, intermittenti su una parte del territorio, sono state invece molto più consistenti e molto più abbondanti in diverse parti, tra cui la nostra città, dove ci sono scaricati circa 42 mm di acqua per metro quadro. Grazie a questo al fatto che la protubazione, la coda della protubazione in transito, ha trovato inneschi molto intensi, una buona dose di energia ovviamente e questo ha creato le condizioni ottimali per scaricare molta e molta acqua. Come poi avevamo previsto, il tutto si è sistemato molto rapidamente, garantendo poi un aperfezionamento della giornata verso il bel tempo. Anticiclone naturalmente sul tropicale, che ha nuova linfa e nuova spinta verso il continente europeo e che naturalmente da oggi continuerà ad aumentare questa spinta, creando le condizioni per tempo stabile, soleggiato e tutto sommato estivo per buona parte della settimana, fino sicuramente a tutto giovedì. Merito anche alla ormai tempesta tropicale, non più, uragano Helene, che dalle azzorre spinge verso le coste di irlandesi e scozzesi, toccherà terra a grosso modo all'altezza di martedì e mercoledì, causando una buona dose di maltempo con 20 oltre 150 orari su quelle zone, ma che naturalmente da noi non darà nessun effetto se non aumentare appunto la sensazione di calore dovuta appunto a umidi venti, diciamo di scirocco. Quindi alle medie latitudini, il vento naturalmente è molto caldo, che farà sì che le temperature si portino sulle nostre zone tra 26 e 27 gradi, mentre nella parte centrale della fine padana anche sui 30 gradi. Quindi una cosa molto anomala, ma che come vedete risente di un perfetto equilibrio atmosferico generato appunto dall'Atlantico. Una situazione che vede un cambiamento le carte verso fine settimana con il primo affondo diciamo perturbato, serio, nella stagione autunnale, proprio in concomitanza con l'avvento dell'autunno astronomico. Staremo un po' a vedere perché le carte uno dà una cosa naturalmente e l'altro ne dà un'altra. Quindi è molto presto per capire cosa ci sarà. Dottorando a noi, quindi una giornata tipicamente estiva con una leggerissima brezza, un pochino meno umidità durante la giornata, ma che poi tornerà a essere molto forte in serata, ma tutto sommato grande estate anche questa domenica. Ciao a tutti e buon divertimento!